Io sono un professionista, non posso lavorare con un dilettante che non sa tenere la pistola nella fondina. Proprio come quella volta, alla diligenza, ce la stiamo filando con i dollari e invece no, doveva far saltare qualche testa. Dai Smith, rilassati. Abbiamo fatto un mucchio di dollari oggi, gustiamoci dei buoni fagioli alla Demienus, ricetta tramandata da generazioni, roba forte, messicana. Dopo il casino che è successo oggi avremo alle costole di Pinquetro, lo sceriffo e non so quanti cacciatori di taglia. E tu pensi a cuocere i fagioli? E adesso sentiamo, cos'è che non andava oggi? A faccia di quel tipo lì non mi piaceva affatto. Adesso scusate, vado a controllare che fanno ricavato. sono quasi pronti, ci siamo. Bene, bene, lo sparate. Ma che abbiamo qui? Bravi, mani in alto, bene in vista. E non facciamo scherzi, perquisiceli. No, no, il cappello non... Sta zitto, foni! Sarà puliti. Da queste parti ci sono solo due motivi per essere conciati in queste condizioni. O siete fuggitivi o siete disperati. Siete dei banditi? Per favore, no, non fateci del male. Sì, in effetti stiamo cercando dei banditi. Stamattina a Houston c'è stata una rapina. Un vero massacro. Quei bastardi non devono essere lontani. Meno male che siete arrivati. Oggi sono arrivati i banditi e ci hanno rubato tutto, i viveri, i cavalli. L'unica cosa che c'è rimasta è questo pugno di fagioli. Se volete, prendete pure. Sono i fagioli messicani alla Demienus. Demienus? Ma dov'è che ho già sentito questo nome? Ma che è sta merda? Non erano ancora pronti. Va bene, se le cose sono andate così, lasciate fare a noi. Da che parte sono andati questi banditi? Didi? Nel bosco? Ok, mister Zennec, allora andiamo da quella parte. Johnson, questi due non mi convincono. Puzzano come porci. pensi ci stiano fottendo, mister Zennec? Va bene, passami i manifesti. Demienus, ecco l'ho sentito, mister Zennec. 200 dollari, ma che cosa hai fatto per avere questa taglia? Hai rubato le galline da un pollaio? Vediamo chi è il prossimo. Eccolo qua. Guarda che bella faccina che ha. David Smith. Mille verdoni, mister Zennec. Con questi ci paghiamo le migliori puttanelle del saloon. Beh, allora, signori, ci sono solo due modi per risolvere la questione. O venite con noi vivi e ve la vedrete col boia, o morti. Ma il mio amico Zennec qui odia trascinare i cadaveri. Quindi cosa decidete di fare? E' il terzo manifesto. Hai ragione, mister Zennec. Solide Kid. E vale pure 3.000 dollari. Non ho visto nessun solide Kid da queste parti, quindi il vostro amico se la sarà data a gambe. Ho visto solo due cavalli legati lì. Johnson, basta ciance. Andiamo a riscutare queste taglie. Via! Fermi! Ritirata, mister Zennec! Corri! Corri! Salide Kid, l'onferisce qui, bastardo! Solide Kid. Figlio di un cane. Guarda cosa hai fatto il mio cappello. L'unico cappello buono è un cappello morto. Ritirata, testa la storia minimale di sabato Grazie a tutti.